Noi siamo a Caivano, in provincia di Napoli, ai confini con la provincia di Caserta, quindi siamo nel pieno di questo territorio che da qualche anno va sotto il nome tristissimo di terra dei fuochi. Ho iniziato ad avere delle febbricole la sera sui 37,2 più o meno, non scendeva ed era costante ed è venuto fuori che c'era una massa all'interno del torace di 13 cm x 11, che schiacciava il polmone sinistro quasi totalmente e si appoggiava dall'altro lato sul cuore. Sono venuti a scaricare, a sversare nelle nostre campagne industrie del nord, insieme alla nostra camorra che da sempre ci fa sentire sul collo il suo fiato puzzolente e con la complicità anche di una politica non all'altezza della situazione, ha interrato nelle nostre campagne milioni di tonnellate di scarti industriali. Siamo a Villa di Briano, noi abbiamo individuato una discarica seppellita sotto un campo agricolo, una discarica di rifiuti speciali e pericolosi, stiamo parlando di circa 100.000 metri cubi di rifiuti.